Amici di Fano TV, buonasera e ben trovati. In questo approfondimento in studio faremo una panoramica sugli eventi e le manifestazioni estive che coinvolgono la città di Fano. Nostro ospite in studio, l'assessore al turismo del comune di Fano, Etienne Lucarelli. Buonasera assessore. Buonasera a tutti. Sul piano turistico è stato attivato un percorso strategico condiviso, le nostre telecamere tra l'altro hanno seguito passo passo tutto il percorso, tutti gli incontri insieme a degli arche. Che cosa si è evinto? Qual è la progettualità che è stata messa in campo? Un percorso molto importante, probabilmente uno dei più importanti fatti negli ultimi decenni, si è iniziato ancora con l'ex assessore Marchegiani dove sono emersi i tre cluster e il nuovo brand, segno che si voleva dare un impulso in più alla città di Fano. Poi col mio arrivo e anche con la collaborazione dell'associazione di categoria c'era la sensazione che era ora di creare le basi forti per una crescita turistica di alto livello. È per questo che abbiamo scelto di affidarci a Giuseppe Iar, che era già stato presente con noi in alcuni appuntamenti e abbiamo cominciato quello che è stato il percorso degli stati generali del turismo, quindi una serie di incontri con il tessuto economico e sociale della nostra città, ma anche una serie di valutazioni di come il mercato ci percepiva, qual era l'immagine che emergeva da Fano nel mercato turistico. E da qui è nato questo piano strategico che oggi veramente è una base fortissima per andare a costruire e organizzare una serie di azioni che possa far crescere la nostra città dal punto di vista turistico. Quindi c'era la sensazione, ci dettavamo un po' quella che dovesse essere l'immagine della città, quindi si parlava a Maffano è più una città romano, è più una città malatestiana, si deve chiamare città del carnevale piuttosto che siamo qualcos'altro. C'era questa sensazione che non ci fossero le basi solide per andare a costruire quella che era la nostra immagine turistica della città. E così è nato il piano strategico, un book di circa 300 pagine, noi l'abbiamo stampato nella parte relativa alla strategia per il futuro che è di circa un centinaio di pagine, ma in realtà quel piano riporta tutta una serie di dati del mercato, come ci percepiscono sui canali web, come ci percepisce il mercato in altri contesti, insomma dei dati molto precisi. E da qui che siamo partiti in questo percorso organizzato e sempre deciso col tavolo economico, tutto il percorso è stato deciso insieme all'associazione di categoria. Ecco, partiamo proprio con questa strategia ed iniziamo oggi a mettere a terra quelle che sono le indicazioni dettate del piano strategico con una pianificazione chiara. Noi vogliamo arrivare da qui al 2024 a mettere a terra, a realizzare una serie di attività per far sì che la nostra città possa crescere dal punto di vista turistico. Assessore, qual è la vision che avete tratteggiato? Ma da subito, Joseph, quanto ha cominciato a stilare il piano strategico, la prima immagine che è emersa dal mercato è quella delle nostre principali caratteristiche. Siamo una meta tranquilla, rilassante, a misura d'uomo, a misura di famiglia. Siamo una meta dove si sta bene, si va in relax, la qualità della vita è molto alta, la qualità dell'enogastronomia, la qualità della proposta anche cittadina, delle nostre attività commerciali, dove il blu del mare, le colline dolci che si affacciano sul mare sono una caratteristica fortissima. Noi forse siamo troppo abituati ad averli sotto mano e non ce ne rendiamo conto, ma anche in questo grave periodo di crisi, mentre un milanese, un torinese, un romano passavano le giornate all'interno di un'abitazione o comunque nel balcone di un'abitazione perché non avevano luoghi dove poter uscire, noi qua insomma siamo riusciti comunque a vivere l'esterno, a vivere la nostra campagna, a stare in luoghi dove c'era un'assoluta tranquillità, luoghi che altre destinazioni non hanno. Questa è la nostra principale caratteristica, quella che un po' il mercato turistico ci invidia, siamo una destinazione tranquilla e a misura d'uomo e per questo che siamo praticamente partiti quest'anno lavorando con un team diciamo molto giovane e fresco abbiamo studiato questa nuova vision, questa nuova immagine che abbiamo proprio presentato questi giorni. Quindi Fano in questo momento è la vacanza giusta, a misura di tutti, la rappresentiamo proprio con un'immagine che rappresenta la nostra storia, ovviamente l'arco d'Augusto è la porta della nostra città, il nostro simbolo, il simbolo da cui è emerso anche il brand che rappresenta proprio la Porta Augustea ma la rappresentiamo con una famiglia quindi una famiglia che insomma passeggia felice nella nostra città e che rappresenta ecco quella tranquillità ma allo stesso tempo quella vitalità che la nostra città sa donare. Social Media Team Visit Fano appunto promuove il nostro brand ma nello specifico qual è la sua attività, che cosa farà? Sì è nato questo gruppo di ragazzi che è composto da Alessandro Eusebi, Valentina Pucci ed Enri Anniballi, in realtà coadiuvati anche da Zaccone Guerra che è il gruppo che in questo momento ci sta seguendo la grafica, loro hanno un obiettivo molto importante, devono prendere tutto questo pacchetto che abbiamo realizzato che poi magari racconteremo anche nel dettaglio e devono cercare di trasferirlo al mercato turistico. Oggi ciò che funziona di più è il social e il digital, cioè usare i social, quindi conosciamo Facebook, Instagram, YouTube e quindi questi canali che con delle sponsorizzate specifiche riusciamo a far arrivare a determinato target di persone, a determinati luoghi già da noi previsti e questo già è un passo molto importante. Il digital invece è riuscire ad essere presenti in tutte le testate anche giornalistiche online e in altri canali, si era evidenziato questi giorni ad esempio che ancora fanno, non è presente su TripAdvisor, piuttosto che su Booking, piuttosto che in altri canali. Ecco il digital è riuscire a apparire proprio in questi canali che sono importanti. Quindi questo è il lavoro che si deve fare verso il mercato turistico. Poi c'è un lavoro di massa critica dove dobbiamo esponenzialmente trasferire queste immagini perché dobbiamo avere un contatto più stringente, più sinergico tra tutto il mondo della cultura, degli eventi, delle attività cittadine e il mondo del ricettivo. Oggi ci sono dei media kit che realizzano gli eventi che spesso e volentieri vengono trasferiti soltanto nelle pagine stesse degli eventi e si chiude lì. Ecco il social media team prenderà questi media kit, gli trasferirà anche nei canali ufficiali del comune di Fano ma non solo, realizzeremo una newsletter specifica perché vogliamo mandare tutte queste informazioni alle strutture ricettive, quindi agli hotel, agli stabilimenti balneari, i bed and breakfast, ai ristoranti affinché loro che hanno poi newsletter di loro clienti possano trasferire nel mercato tutte queste informazioni. Cioè dobbiamo lavorare insieme in modo sinergico verso un'unica strada. In questi anni abbiamo lavorato un po' spaiati, ognuno fa un po' quello che crede, cerca di trasferire le immagini come crede ma poi all'esterno ecco arriva questa immagine di una città che è un po' disunita, che ognuno fa la propria attività pensando che quella sia giusta. In realtà l'attività giusta è quella di fare sinergia, è quella di inquadrare quella che è l'immagine della città, quella che è il messaggio che si vuole lanciare nel mercato e lanciarlo tutti insieme. Ecco il social media team, progetto ambizioso, deve trasferire le immagini che abbiamo creato nel mercato turistico ma deve cercare anche di costruire una sinergia tra i vari attori della città. In questi giorni è stata presentata la nuova stagione turistica con questa nuova immagine, l'abbiamo detto, una campagna davvero frizzante, ricca di energia e di entusiasmo. Vorrei sapere quali sono i pilastri e qual è lo slogan che veramente è un invito proprio per tutti, turisti che vengono da fuori ma anche per i fanesi stessi. Sì, sul payoff del nostro brand ci abbiamo ragionato molto, alla fine in un qualche modo è il messaggio che vogliamo lanciare nel mercato nel momento in cui le persone stanno facendo ricerche continue nel web e anche nei social per capire dove andare in vacanza in questo momento così difficile. Quindi noi gli stiamo lanciando un messaggio chiaro. Fanno è la vacanza giusta. In questo momento siamo una città adatta per le persone che vogliono passare un momento di relax ma allo stesso tempo vivere dei momenti di tranquillità, di spensieratezza, quindi anche di vivacità, non soltanto di staticità. Lo facciamo con questi quattro claim che gli vogliono richiamare. Il primo è Vivila. Con Vivila noi rappresentiamo la possibilità di vivere la nostra città pieno con la famiglia, nei suoi contesti, quindi vivere il mare. Quando parliamo di vivere il mare, il mare si vive a 360 gradi, non soltanto nella stagione balneare ma anche fuori stagione, ad esempio con le imbarcazioni, con la vela, con gli sport acquatici. Si vive nella spiaggia, con gli amici animali, quindi si può vivere veramente in modo ampio. Ma si possono vivere anche le nostre dolci colline. Oggi insomma con le mountain bike, tramite le piste ciclabili, con walking, piuttosto che col trekking arrivando fino al vicino furlo. Quindi ci sono delle possibilità di vivere la nostra città veramente molto importanti. Poi anche le nostre proposte commerciali fanno vivere la nostra città. E quindi parliamo ai mercati, che sono veramente caratteristici. Per noi sono abitudinari, ma per altri sono molto caratteristici. Il mercato dell'antiquariato, il mercato cittadino che è un mercato commerciale, il mercato del pesce, il mercato degli agricoltori, quindi della frutta e della verdura. Queste cose non si trovano tutti i giorni in Italia. Ecco, a Fano se ne trovano di tutte le tipologie. Quindi abbiamo delle caratteristiche per far vivere tutto questo. Vivere la nostra marineria, arrivare nei nostri angoli del porto, poter fare una passeggiata nel molo e ritrovare ancora i quadri della pesca, piuttosto che trovare tutte le imbarcazioni, pescherecci, levongolare, pronte a partire la mattina. Insomma, sono luoghi che ti fanno vivere delle emozioni diverse rispetto a quelle che vivi tutti i giorni. Quindi vivi la significa, vieni da noi, trovi qualcosa veramente da vivere a pieno. Scoprila, che ovviamente parla della nostra cultura. E quanto parla della nostra cultura noi abbiamo dedicato tre pagine alla scoperta della nostra città. Poi Fano è una città continuamente da scoprire, perché i ritrovamenti archeologici sono continui, quindi anche i messaggi e le emozioni che lanciamo sono sempre diversi. Ovviamente con Scoprila abbiamo rappresentato dapprima la nostra storia romana, quindi quelle che sono le nostre radici e quindi tutto ciò che puoi trovare nella nostra città partendo dall'arco d'Augusto, ma ricordiamo che nei nostri musei abbiamo la Dea Fortuna, che è il simbolo della nostra città, ma allo stesso modo la testa di Ottavia, che è un po' con questa capigliatura rappresentativa nel mondo dell'arte proprio per la bellezza, simbolo di bellezza del periodo, con i vari monumenti, le mura romane, la possibilità di andare a scoprire la città nel sottosuolo, quindi gli scavi archeologici. Quindi abbiamo veramente tante cose da far vedere per scoprire la nostra romanità. Poi tutto ciò che ci hanno lasciato la Signoria Malatestiana, quindi il Medioevo, quindi grandi monumenti ancora a cielo aperto, quindi rocca, corte e tantissimi altri monumenti. Poi tutta l'arte che ci è stata lasciata, quindi noi abbiamo sia all'interno della Pinacoteca, ma all'interno di Santa Maria Nuova, della Pinacoteca San Domenico, abbiamo veramente dei luoghi dove possiamo vedere rappresentazioni del giovane Raffaello, del Guercino, del Perugino, di Giovanni Santi e chi più ne ha più ne metta, quindi veramente delle opere che vale la pena di vedere. Quindi una città completamente da scoprire. Poi ovviamente non può mancare la nostra gastronomia che veramente fiora l'occhiello del nostro territorio, quindi con Gustala abbiamo rappresentato il nostro mare e quindi in questo caso la possibilità di vivere i nostri ristoranti a pieno, tra l'altro faremo un progetto specifico sui ristoranti di mare e quindi Gustala viene rappresentata dal nostro brodetto, dalla rustita, dall'olio, dalla moretta, dal bianchello del metauro, quindi tutti i prodotti principe del nostro territorio che i turisti vogliono assolutamente assaggiare in tutte le loro accezioni. Con il Sentila noi parliamo degli eventi, il Sentila è sentire, percepire le emozioni che trasmette quello che è il DNA fanese, quello della città del Carnevale in pratica, quel DNA che ci accompagna, per cui questo humus creativo della città fatta di persone che si mettono continuamente in gioco, che realizzano una serie di eventi e manifestazioni che fanno emergere caratteri principali della nostra città, una città viva al quale bisognerebbe sempre fare un plauso, anzi ne approfitto perché soprattutto oggi mettersi in gioco per realizzare tutte queste attività non è affatto semplice, nonostante tutto anche quest'anno insomma realizzeremo una serie di manifestazioni partendo da passaggi, si andrà avanti con il jazz per poi passare al Carnevale che quest'anno sarà estatico e finire con il Brodetto. Mancherà quest'anno soltanto la Fano dei Cesari, ci sarà anche una rappresentazione del Padio delle Contrade e anche una piccola rappresentazione della Romanità, ma ovviamente non abbiamo potuto realizzare la Fano dei Cesari. Tutto questo con un'altra serie di eventi che ci saranno nella città è quel modo di vivere e di sentire la città e di sentire così il carattere dei fanesi, quindi è un altro carattere che noi abbiamo voluto rappresentare. Ecco tutto questo, quindi questi quattro claim che lanciamo ci danno questa sensazione che insomma Fano è la vacanza giusta e sono i messaggi che in questi due mesi, siamo partiti già da un mese, vogliamo in qualche modo trasferire nel mercato per raccontare quello che siamo e quindi che cos'è la città di Fano. Altro fiore all'occhiello di questa campagna promozionale sono i pacchetti turistici che state promuovendo, facendo quindi una differenziazione di target in modo tale che si possano rivolgere a tutti quanti. Primo fra tutti quello rivolto alla famiglia. Quali sono allora le caratteristiche di questo singolo pacchetto? Lo abbiamo detto all'inizio, è un messaggio che abbiamo lanciato anche all'inizio dell'anno. Fatto il piano strategico abbiamo bisogno adesso di far capire che le cose che sono scritte lì dentro vanno messe a terra, vanno realizzate, vanno organizzate altrimenti come succede qualche volta rimangono in un pezzo di carta che poi non diventano operative. Ecco quindi questo è il primo passo. Ora lavoreremo per far sì che ognuna di queste sensazioni diventi realtà. Il nostro problema oggi è che se una persona arriva nella nostra città e vuol vivere la città ad esempio per la famiglia magari non ha la sensazione di quelli che siano i servizi dedicati pienamente alla famiglia. Così come se si vuol vivere la città del carnevale si riesce a vivere nel periodo del carnevale ma si riesce a vivere meno nel periodo estivo perché magari in online non puoi toccare con mano quello che viene realizzato e le cose che vengono realizzate sono veramente tante. Così per quanto riguarda la città di Vitruvio ancora facciamo un po' fatica a volte a rendere sempre totalmente aperti luoghi cittadini che permetterebbero di toccare con mano le bellezze della nostra città. Stiamo lavorando su questo anche con il sindaco Massimo Seri, assessore della cultura che sta già lavorando per l'apertura sinergica dei vari punti culturali e faremo in questi quattro anni tutta una serie di progetti per far sì che fanno città dei bambini e delle bambine quindi il prodotto legato alla famiglia sia un prodotto reale che fanno città di Vitruvio quindi legata alla scoperta della nostra città sia un prodotto ideale sia completamente visitabile sia completamente percepibile sia anche un'emozione che viene raccontata al turista che arriva nella nostra città così come la possibilità di vivere a pieno l'outdoor quindi di fare bike o trekking nella nostra città così come vivere a pieno le esperienze e abbiamo iniziato anche all'interno del programma eventi a inserire tutta una serie di esperienze che possono essere vissute nella nostra città mi viene in mente assieme all'ente carnevalesca abbiamo realizzato questa esperienza carnevalesca che permette con un numero telefonico tramite una prenotazione di vivere un'esperienza ai cari del carnevale quindi di entrare dentro di vedere i maestri caristi all'azione magari anche di realizzare qualcosa di portarselo a casa quindi di toccare con mano il carnevale ecco sono piccole cose ma importanti perché far vivere a un turista quell'emozione fa in modo che quella mozione venga raccontata e così fa in modo che la città di Fano venga raccontata così come ad esempio realizzeremo tra le esperienze sono previste una visita in costume medievale insieme ai ragazzi della Pandolfaccia e che si chiamerà Malatesta per un giorno e quindi una serie di esperienze che ti fanno toccare con mano la nostra città venendo alla domanda tra qualche giorno presenteremo proprio il primo vero prodotto turistico la prima vera offerta turistica della nostra città che riguarda il family riusciremo a far capire anche ai fanesi cosa significa realizzare un prodotto turistico quindi mettere in sinergia una serie di servizi che la città può offrire fare in modo che il turista appena arriva nella città abbia evidenza di quelli che sono tutti i servizi che la città può offrire così può insomma diciamo così usiamo un termine godere di quei servizi e della nostra città appieno nel pieno insomma delle sue possibilità abbiamo fatto una carrellata generale di quelli che saranno gli eventi di questa estate mi preme anche ricordare visto che insomma si vive proprio il tutto in questi giorni altri due appuntamenti con la cultura e con gli spettacoli che fanno offre ovvero passaggi festival il mercoledì degli artisti sì col mercoledì degli artisti siamo partiti anche presto però in questo momento c'è bisogno di dare lavoro alle attività commerciali in un momento in cui finalmente sembra che possiamo respirare un pochettino meglio i contagi stanno un pochettino allentando grazie anche alle vaccinazioni che stiamo realizzando anzi un messaggio va sempre lanciato quello di vaccinarci tutti in modo che veramente possiamo liberarci di questo periodo così difficile abbiamo la sensazione che ci stiamo liberando di tutto questo però dobbiamo accelerare con il lavoro perché abbiamo perso veramente tanta strada le nostre attività economiche stanno soffrendo noi abbiamo veramente fatto di tutto per far sì che insomma il lavoro possa partire prima possibile abbiamo dato spazi all'esterno anche questo prodotto fanno un plenare insomma funziona la città è più viva con tutti gli spazi presi della città e tra l'altro anche in modo ricercato degli angoli che sono diventati veramente carini e anche per questo anche se ancora il progetto del mercoledì degli artisti parte soft perché ci sono ancora una serie di restrizioni che vanno rispettate però il messaggio che stiamo lanciando è che la città è partita ci sono tutta una serie di attività fatte in sicurezza ma fatte quindi il centro storico ma anche tutte le altre zone nella zona mare si possono completamente vivere e come lo è di solito Passaggi è una forte spinta verso l'apertura della stagione estiva e insomma ci apprestiamo proprio a vivere la manifestazione Passaggi che in questi anni sta emergendo con un carattere veramente impressionante dato dal progetto e dal comitato scientifico che sta creando un prodotto veramente di alta qualità di attualità dove si parla di ciò che si vive nella nostra nazione in Italia con le caratteristiche che arrivano dai tanti personaggi importanti che la vivono lo fa mettendo insieme anche un'attività sociale nella città cioè raccoglie veramente una serie di volontari una collaborazione con le attività economiche molto molto importante e questo è veramente bello vedere che c'è un'associazione che dialoga con tutta la città per far sì che quel giorno c'è la percezione che tutto parli di passaggi ma questo succede perché veramente c'è un dialogo costante con tutti c'è una collaborazione aperta con il sottoscritto ma con tutta l'amministrazione comunale sempre costante per far sì che tutto questo avvenga è una manifestazione che dà una bella apertura alla stagione attira anche diversi turisti sta crescendo molto da questo punto di vista ogni anno con la comunicazione che facciamo sta insomma facendo passi da gigante e da lì in qualche modo abbiamo la sensazione veramente che la stagione estiva parta ecco poi noi abbiamo un obiettivo un obiettivo chiaro turismo nella città di Fano non può essere soltanto l'estate i diciamo tre mesi estivi sono pochi giugno, luglio, agosto oppure metà giugno, luglio, agosto e metà settembre insomma il nostro obiettivo è destagionalizzare fare in modo che ed è questo previsto nel piano strategico fare in modo anche che nei mesi di maggio e aprile ma anche nei mesi di settembre, ottobre ci sia una proposta nella nostra città da far vivere che poi è quella che in gergo si chiama la proposta del well-being che sarebbe della qualità della vita, del benessere del benessere non inteso come benessere dal punto di vista della struttura, del wellness ma del benessere inteso come la possibilità di vivere il mare insomma in modo completo la possibilità di vivere la nostra enogastronomia la possibilità di far passeggiate nell'entroterra e devo dire che ultimamente questo dai turisti è molto ricercato la vacanza non è più una vacanza da 10-15 giorni da fare soltanto nel periodo di ferragosto ma sta sempre più diventando le 3-4-5 uscite all'anno fatte di 3 giorni, nel weekend, venerdì, sabato e domenica e spesso magari in un momento dove uno si vuole liberare del periodo stressante del lavoro e quindi questo succede anche a ottobre come succede anche a aprile ecco, se Fano riesce ad essere quella proposta di qualità, di relax ma di vivacità come può esserlo? perché abbiamo prodotti enogastronomici che non sono secondi a nessuno perché abbiamo un territorio delle colline e il mare che non sono secondi a nessuno se riusciamo a trasferire questa immagine sono sicuro che riusciremo ad attirare quel tipo di turista che insomma cerca quella necessità Vivila, scoprila, gustala, sentila non solo lo slogan della città di Fano ma un invito a tutti i turisti, fanesi e non grazie Assessore per essere stato con noi grazie a te e buonasera a tutti e grazie naturalmente a Riccardo Sora in regia e a voi per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti